ah perchè vado domastina? e poi sono loro che ne possono fare per cazzo di riparo va, io... se c'è qualcosa qua ti serve una presa? si si non da sto nulla c'è una palla ti sta scaldando da e' fantastico ma se passi... infatti mi stavo chiedendo quanto tempo ci mettevano prima di distruserlo l'ha distrutto? no, però già mi punta, girato, era la in un cantone, girato a rovescio ma verano già? no la la oh cosa mancava? un riscaldamento o l'ampio la scelta era quella da fare questa è la mentolina, l'allentato, un secco poi io non ho preparato il mio computer che aveva da mano e poi io e con i dei computer vecchi PAM PAM via si si va mi tiravi le pacche e l'allentato smetteva, si fermava tutto metodo metodo un pressore che 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ma... a tutti. 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 a tutti.